Good morning Milano! Venerdì 5 aprile, sono le 7.09, ben ritrovati, bentornati qui su Crystal Radio, in diretta come sempre tutte le mattine, 96.2 FM, Dub Plus, le applicazioni, il sito, insomma lo sapete, ma soprattutto 331-78-53-555. Il nostro numero di Whatsapp a cui potete scriverci e raccontarci tutto quello che farete oggi o che avete fatto ieri, oppure anche così un po' come va la giornata, come va la settimana, perché oggi è venerdì, thanks God, it's Friday! Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo giorno, ma tanto lo sapete, poi due giorni di pausa e ritorniamo qua. Lunedì come sempre raccontarvi tutto quello che fa Milano. Oggi tantissimi ospiti, pensate che uno è già qui in studio con me, abbiamo già la prima ospite qui in studio e fra pochissimo parliamo con lei. Poi avremo dei collegamenti, poi avremo gli eventi della settimana a cui Eri B non andrà, insomma tantissime cose, come sempre tante informazioni e anche tutto questo, come sempre qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano. Vi ricordo anche il nostro sito internet goodmorning.milano.it, potete rivedere, riascoltare tutto quello che succede qui e potete anche condividerlo con i vostri amici, sui canali social, insomma come sempre siamo qui per raccontarvi tutto quello che succede a Milano. Le notizie le prendiamo dai giornali e poi a volte gli ospiti vengono anche qua a commentarle insieme a noi e oggi è uno di quei casi. Iniziamo subito con la musica però perché è il momento di Giovanotti con una canzone che introduce proprio l'ospite che abbiamo dopo la canzone qui con noi. Ebbene sì, Giovanotti, ciao mamma! Ciao mamma, Giovanotti, guarda come mi diverto, chissà se l'hanno detto anche i figli della nostra ospite. Buongiorno a Carla Belli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. E voi direte, chi è Carla Belli? Non sapete chi è Carla Belli? Fatevi però, cioè ormai è il nome che è su tutti i social, su tutti i giornali, su tutte le radio in questi due giorni. No, per fortuna il nome non è stato diffuso, solamente la notizia. Abbiamo questa esclusiva, quindi anche di diffondere il nome. Allora è la mamma, famosa mamma, che ieri ho insultato praticamente in diretta, quindi ti chiedo scusa per un momento e poi peraltro chiedo scusa ai bambini che veramente poveretti. Allora, la notizia era il museo del Novecento non è a misura di bambini, un tuo post ha acceso la polemica. Ci tengo a precisare che il titolo non sono parole mie, ma ovviamente è stato il titolo della giornalista. Io semplicemente commentavo in questo gruppo di mamme di cui faccio parte da ormai 5-6 anni. Di nome sai il coraggio? Mamis, Mamme Milano Club. Mammi Club, ragazzi, ti prego. Ho visto anche il logo, lasciamo stare. È un bellissimo gruppo dove ci si può confrontare fra mamme, dare consigli, raccontare le proprie esperienze di Milano, ma non solo. Anche viaggi, tanti consigli, è un bel gruppo insomma. Ok. E commentavo un'esperienza un po' spiacevole di visita al museo del Novecento dove siamo stati un po' braccati dagli addetti di sala che si vede che erano particolarmente preoccupati dall'arrivo di questa felice famigliola in visita con questi bambini piccoli e abbiamo avuto proprio questa sensazione di essere un po' sorvegliati speciali. Il giorno di Pasqua? No, giorno prima. Ah, infatti, già una notizia sbagliata. Mi sembra che il giorno di Pasqua fosse aperto al museo del Novecento. No, perché tutti i post che vengono pubblicati nel gruppo devono essere preautorizzati, quindi giustamente anche gli amministratori si stavano godendo le fede. Ovviamente io ci ho fatto tanta ironia su questa cosa, sapete poi come la penso sui bambini che sono sempre in giro. Comunque, ma in realtà, però dicevo ancora una cosa, dicevo, il problema secondo me non è tanto il museo in sé quanto il fatto che appunto tu, tuo marito, volete andare a fare un giro al museo tranquilli e non c'è modo però di gestire il fatto che felicemente appunto avete due figli e volete gestire questa cosa. Ma guarda, noi abbiamo piacere di portare i bambini al museo. Ecco, i bambini anche? Sì. La domanda è questa, la domanda fondamentale è questa. Allora, i bambini sono piccoli, il grande ha cinque anni, la piccola due anni e mezzo e li abbiamo sempre portati ai musei con noi, abbiamo sempre viaggiato nelle nostre possibilità e crediamo che il museo sia proprio un luogo da vivere e da vivere insieme, da vivere in famiglia. Poi il museo non è solamente le opere che vai a vedere, ma proprio il luogo che vai a visitare. I musei sono affascinanti, cioè i miei figli sono stati dieci minuti a guardare le persone in Piazza del Duomo perché il Museo del Novecento è una bellissima vetrata che affaccia sulla piazza e da lì si può godere proprio di tutta la visuale. Io proprio mi domandavo, la piccola ha due anni e mezzo, cosa può capire del Museo del Novecento? Niente. Ma ti stupirò perché lunedì di Pasquetta abbiamo visitato la Fondazione Prada. No, ma se hanno accesso a internet e guardiamo la cronologia di questi bambini, secondo me è come denunciare per sequestro di persona un genitore? Ma decidiamo che bambini vogliamo crescere, vogliamo crescere dei bambini che conoscono centri commerciali e fast food, vogliamo crescere dei bambini che si sono avvicinati all'arte fin da piccoli, hanno imparato a fruirne, a comportarsi in questi luoghi. Così non vale, vinci tu. Perché se c'è una cosa che... Chi ci ascolta sa che non sopportano i bambini, ma se c'è una cosa che oggi di più sono i centri commerciali, quindi capisci che hai vinto questa volta. Infatti purtroppo tra i vari commenti al posto che ho ricevuto è stato proprio quello i musei non sono posti per i bambini, portali in luoghi più adatti a loro. Ecco su questo io ti ringrazio tantissimo per l'invito, per la possibilità anche di replica, perché invece credo fermamente che i musei possano diventare dei luoghi da vivere insieme, in famiglia, grandi, piccoli, anziani, persone con disabilità. Credo che siano proprio dei posti dove ci debba essere la possibilità di godere dell'arte. Tutti, tutti, ognuno con le proprie capacità, perché adesso, in sincerità, non credo che tutti gli adulti che visitano i musei siano in grado di comprendere le opere. A questo punto credo che la piccola di un'ora e mezza ne sappia più di me. Cioè, visto il suo background, a questo punto credo che sia lei a potermi portare in giro per i musei. Perché nell'articolo raccontavi anche di esperienze fatte in altri musei che invece sono andate molto bene da quanto ho capito, no? Parlavi degli uffizi, se mi sembra. Sì, sì, gli uffizi poi sono stati particolarmente provanti, perché sono un museo enorme. Siamo stati dentro più di due ore e mio figlio era completamente affascinato dall'idea di vedere la Gorgone alla fine, anche perché lui ha una passione per i mostri e la mitologia. Infatti poi al Museo del Novecento una delle grandi delusioni è stato anche il fatto che tutta la sezione del Manzoni fosse chiusa. E sai che c'è un meraviglioso barattolo che contiene un elemento che ai bambini piace particolarmente. Non abbiamo potuto vederla, vabbè, la parte era chiusa. Anche i tagli di fontana li avete visti? I tagli di fontana sono piaciuti tantissimo. Vabbè, sono piaciuti da loro perché nessun altro li capisce, quindi vedi. Ecco qual era il segreto, era vedere da bambino. Esatto, ma io e il mio compagno amiamo l'arte, non siamo degli esperti, siamo degli appassionati, ci piace e crediamo che dare la possibilità ai nostri figli di avvicinarsi all'arte fin da bambini sia un dono che stiamo facendo loro. Non sempre facile purtroppo. Non sempre facile, poi ripeto, io ci ho fatto della sana ironia e appena avuto modo di averti qui, anzi ho avuto subito averti qui per invece sapere la storia vera, come era andata. Immagino che sui social la cosa sia un po' scappata di mano in alcune situazioni. Mi ha fatto molto sorridere quando hanno commentato il post dicendo poi la polemica sui social è stata molto civile, ognuno ha detto la sua rispettando il parere degli altri. Ecco, cosa che ovviamente sappiamo che... Non è stata così, immagino. No, non è stata così, sono stata molto attaccata. Mi ha anche stupito perché in una pagina appunto come quella di Mammis, che frequento da tanti anni... Altre mamme hanno... Sì, sì. Hai capito le mammine? Perché ci si è attaccati molto al fatto anche della... Io ho chiesto la possibilità di fare merenda ai bambini. Anche te Carla però, sei in un museo e questi vogliono mangiare i succo e taralli. Succo e taralli. All'interno dei musei non si mangia. Va bene, è una regola, l'abbiamo rispettata. Ma mi permetto anche di dire, ma è giusto? È giusto che all'interno dei musei... Ci sono fior di musei dove ci sono ristoranti, ci sono bar. Per un'esperienza di visitare un luogo e non starci dentro 20 minuti, ma avere la possibilità di starci dentro un'ora, due ore, passare proprio del tempo di qualità in famiglia, può prevedere anche una merenda, un bar, una stanza adibita a questo uso. Quindi anche questa regola mi permetto di rispettarla, assolutamente ci mancherebbe altro, però anche di metterla così in discussione. Se vogliamo dare ai bambini la possibilità di avere un ricordo bello, potrebbe anche includere un momento di relax, uno spazio ad hoc per poterlo fare. Ma è possibile, secondo te, però, creare appunto... Ma non parliamo solo di musei, perché poi il problema, anche quello che dicevo ieri in trasmissione, non è solo il museo in sé, il problema è che noi cerchiamo di creare dei mondi fatti a misura di bambino fuori, in giro per il mondo, quando poi in realtà le cose però da bambino spesso non entrippano solo a misura da bambino, no? Cioè, troppo spesso poi ci dimentichiamo in realtà. Facciamo tanto gli alternativi quando vogliamo fare i bar, le cose, però magari appunto uno ha degli impegni, le scuole chiudono a quell'ora e non si può andare oltre, sabato e domenica non c'è nulla che possa aiutarci nella gestione dei nostri bambini. Da che parte stiamo andando? La mia domanda è questa, cioè, non stiamo esagerando da una parte dove vogliamo ovunque spazio per bambini e dall'altra invece dove dovrebbero esserci spazi per bambini, quali non esistono? Io credo che la separazione non sia corretta. Cioè, quando vogliamo creare degli spazi ad hoc per qualcuno, per qualcosa, mi lascia sempre un po' perplesso. Sarà perché lavoro nel mondo della disabilità, dell'inclusione, quindi penso che questa parola sia molto bella. Cioè, includere tutti in ogni spazio. Poi, per carità, ci sono dei luoghi, non mi sognerei mai di portare i miei figli in un ristorante stellato, se mai ci potessi andare. Però ci sono dei luoghi normali, le trattorie, i parchi, ma anche i negozi. Cioè, in questi giorni, che ovviamente immagino ho avuto tante occasioni di scambio su questo tema, mi raccontava una mia amica che in Germania è andata in una ferramenta e la ferramenta aveva un'aria giochi per i bambini. Cioè, quattro martellini, perché a volte non ci vuole tanto, quattro martellini di legno per farli giocare, i genitori nel frattempo fanno acquisti. Cioè, metti anche il cliente nella condizione di poter comprare di più, di poter tornare con volentieri in quel luogo. Quindi tu dici, non c'è tanto da pensare, appunto, bambini qua, adulti di là. Cioè, creiamo dei luoghi che vanno a vedere un po' per tutti. Perché la critica, diciamo, oppure la paura di quelli come me, diciamoci la verità, è che poi io vado al museo e mi devo trovare questi marmocchi in mezzo ai piedi ovunque, devo vedere le cose come se fossi, che avesse anch'io sette anni, e devo avere tutto colorato, invece voglio vedere le mie cose nel museo tranquillo. E invece, secondo me, si può creare proprio un arricchimento reciproco, perché nello stare insieme, nello stare insieme si cresce insieme, poi i bambini sono un male necessario se non vogliamo estinguerci, non so come dire. Un male necessario potrebbe essere una t-shirt con cui vado in giro, effettivamente. Ovviamente non pretendo di delegare il fatto di doversi, come dire, i bambini non vanno in posti agli altri, i bambini si devono saper comportare nei posti, molti dicono si va nei ristoranti, poi i genitori non si prendono cura dei propri bambini, queste cose ovviamente. Ma sarebbe giusto fare dei ristoranti dove poi non possono entrare i bambini, ad esempio? Sì, perché no? Io su questo non sono, perché il ristorante è un luogo privato dove si va a mangiare, non è un museo dove si deve fruire dell'arte e credo che l'arte debba essere a disposizione di tutti. Se uno vuole creare un ristorante dove i bambini non possono andare, se la legge lo permette, io sinceramente non ho niente in contrario, ma anche un resort. Io mi immagino voglio farmi cinque giorni alle Maldive, in Santa Pace, non voglio avere bambini, ma per carità. Cioè piuttosto che andare in un posto dove non ti senti ben accolta, so che lì non posso entrare, va benissimo. Però questo non deve prevedere cose come l'arte, la cultura o altre beni che devono essere di tutti. Il commento che ti ha fatto più arrabbiare è stato quello proprio dove mi hanno detto ma perché porti i tuoi figli al museo? C'è tempo per tutti, aspetta qualche anno e vedrai che poi li potrai portare. Come se ci fosse appunto una data. Dai sei anni in su possono andare, dai dodici anni in su possono andare. Ogni genitore conosce i propri figli e deve anche essere messo nelle condizioni di poter far fare loro tutte le esperienze. Non lo dico io che non sono nessuno, ma lo dicono fiordi pedagogisti. Bisogna avvicinare i bambini all'arte sotto i tre anni, è molto importante. Chiaro. Facciamo un attimo, prima di chiudere, la lista dei musei che fino ad adesso hanno visto i due piccoli sequestrati. Cosa hanno visto? No, non sarei in grado di fartela, però... Perché è lunghissima. È lunga, la primavera scorsa eravamo a Londra, che è una città che io amo particolarmente, dove i musei sono gratis. Quindi in qualsiasi momento tu vuoi andare a vederti un Van Gogh, non devi neanche pagare. Vai, stai dieci minuti davanti alla meraviglia e poi vai a fare quello che devi. Ok, sarebbe interessante fare questa intervista ai due piccoli. Ma io te li volevo portare stamattina. Avevo paura. Sapendo quanto amo i bambini, volevo presentarmi qua con i pargoli. No, però adesso dico una cosa, sappiate una cosa, io i figli degli altri li voglio sempre bene. Nel senso, vediamo tanto, appunto, perché tanto poi tornano a casa loro, quindi non c'è problema. Sarebbe più complicato se fossero i miei, ecco, quello sarebbe un po' più complicato. Quindi sono ben contento che continuate a farli. Continuate a far progredire la specie umana. Grazie, anzi, per questo lavoro socialmente utile che fate per tutti noi altri. Aiutateci però. Va bene, no, grazie veramente Carla. Grazie per averci comunque messo i puntini sulle i, che è veramente complicato. Perché immagino, cioè, da una pagina di un gruppo trappertese privato, quindi in qualche maniera questo commento è uscito e poi è arrivato in mano ai giornalisti e poi è stato spostato a chi lo impaginava sul web e tutto. Quindi immagino che cosa sia venuto fuori e ne abbiamo potuto raccontare. Quindi grazie mille davvero Carla per averci raccontato veramente quello che è successo. Grazie mille ancora Carla. Noi torniamo fra poco sempre qui in diretta e parliamo di tante, tante altre cose qua sempre a Good Morning Milano. David Bowie con Change alle 7.38 minuti. Ben ritrovati, bentornati qui su Crystal Radio Good Morning Milano e andiamo con la rubrica più importante della settimana, almeno così dice lei. Gli eventi della settimana a cui io, Eribi, non andrei... Buongiorno Eribi, benvenuta. Allora, questa qua è la rubrica delle rubrichette. Ah, la rubrica delle rubrichette. Sì, esatto, esatto. Grazie mille per avermi invitato anche questa settimana. Ancora. Ma perché? Scusami, sono educata. Va bene. È strano, è strano sentirti educata. Tra l'altro sono molto contenta di arrivare dopo Carla. Ah, ok, benissimo. Perché sono a favore della sua battaglia, assolutamente. Tutti i bambini dovrebbero essere educati ai musei. Infatti per questo io li frequento molto poco. Ecco, benissimo. Tu che defini una roba di bambini dove di solito tu non vai da nessuna parte dove ci sia qualcuno sotto i 12 anni. Sì, però, secondo me, visto che io quando ero bambina, almeno con la scuola e forse anche qualcosa con i miei genitori, perché qualche ricordo ce l'ho, sono stata portata nei musei. I tuoi genitori al massimo ti portavano la festa dell'unità, lo sappiamo benissimo. Vabbè, ma anche quello è stato molto formativo. Del resto il disagio me lo porto da quando ero bambina. No, però voglio dire, secondo me è una cosa corretta. Quindi, care mamme, fate le vostre battaglie, fate diventare delle persone migliori, i vostri bambini, facendogli apprezzare l'arte. Il problema nasce quando la mamma apprezza l'arte e metti da parte. Quando le mamme non sono migliori dei bambini, quindi nasce lì il problema. Non nel caso di Carla, invece, dove invece è. No, 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 esatto. Go, Carla, go. Andiamo avanti. Cari amici, siamo qua non per dire stupidate, ma per raccontarvi degli eventi a cui io non andrò, ma voi sicuramente sì. Allora, parte con questa settimana, cioè, scusate, con questa sera. Ok. Oggi, 5 aprile, corretto, un evento gratis, ok? Dove in realtà potrete spendere tutti i vostri soldi, è la notte bianca in Bovisa, tra shopping e divertimento. Chissà che divertimento. Perché? Adesso sentiamo il nostro Lorenzo Masieri della Bovisa. Esatto, volevo proprio un collegamento con Lorenzo Masieri per capire se andrà, ma sicuramente sì. E io non so perché ho il divertimento, cioè, da quando ho letto questo evento penso solo al mangiafuoco. Ah, va bene, che è un ristorante, no, cos'è? No, il mangiafuoco. Ah, ma perché? Magari non c'è. C'è? Non lo so, però io ho pensato al divertimento e mi è venuto in mente, oddio, il mangiafuoco, ho iniziato a sudare e freddo. Potremmo chiedere a Simone Lunghi, che è un mangiafuoco. Ecco, vedi, ecco, ecco. Poi, allora, questa fine settimana è fitto di eventi, eh? A partire da oggi, fino al 7 di aprile, all'arco della palace, ed è gratis, c'è una roba che a me nervosisce, cioè Flora et Decora 2024. Colori della primavera arrivano a Milano. Perché? E potete andare lì, comprare le vostre piantine e farle morire tre giorni dopo. Ma perché? Perché io al pollice nero, purtroppo, in realtà sono molto invidiosa, è per questo che non vado a questi eventi, perché ci sono gli infognati di piante, che loro sono molto bravi e io invece sono una cagna. Ok, quindi non ci vai perché ti vergogni. Sì, un po' sì. Ok, va bene. Poi ho scoperto questa roba molto interessante. Domenica 7 aprile, dalle 9 alle 17, a Bareggio, quindi scusatemi se non è proprio Milano ma fa niente. No, Milano, città metropolitana di Milano. C'è il campionato italiano di OCR. Tu sai che cos'è l'OCR? È quella funzione che lo scannerà quando scannerizzi un'immagine e traduce l'immagine in testa. No, te lo dico un po' con il mio inglese maccheronico. È Obstacle. Obstacle? Ok? Course, race. Una course ostacoli. Bravissimo. Perché non lo possiamo dire in italiano? Ma per cani, per persone umane? Ah, ok no. La definita così, l'evento, cioè, quindi l'evento è campionato italiano OCR a Bareggio. Un'esaltante, esaltante ho scritto, sì. Un'esaltante celebrazione dello spirito del movimento. Del movimento 5 stelle. Del movimento nel senso di muoversi. Ah, scusa. Dove all'OCR Park a Bareggio. Vuol dire che Bareggio ha un OCR Park. Ma non è che è una roba tipo il parkour? No, no. Oh, obstacle, course, race. Eh, ma obstacle, cioè non ostacoli. Non lo so. Secondo me è single. Course non vuol dire corsa. Che cazzo ne so io. Ma vado a fare. Scusate, scusate. Io vi dico, siete voi gli esperti dell'inglese. Io sono questa cosa. E comunque potete andare domenica dalle 9 alle 17, l'offerta è libera. E infatti, allora, l'OCR è una via di mezzo tra le prove di American Gladiator, per intenderci. Oh, madonna. E infatti sono vestiti anche da... Da gladiatori. No, qui c'è uno vestito da vichingo. Bello. Ci sono queste strutture, adesso te le faccio vedere a te, vedi? Ci sono una sorta di... Sì, avete presente quella trasmissione di American Gladiator? E un po' lo Spartan Race. Ah, sì. Ecco, mettete insieme queste due cose, quindi correte, ma poi ci sono degli ostacoli da superare, dei muri da saltare, delle gomme su cui entrare dentro, del fango su cui... Sì, sì, è presente, è presente. Un po' quelle robe anche da Marines, per intenderci. Messo insieme e fate un po' più divertente. Mi raccomando, cioè, andate, guardate che cosa c'è, non fatevi male, perché l'ospedale non è proprio vicinissimo, io ve l'ho detto. Ok. Poi, questo... C'è quello di magenta vicino. Esatto. Devo ringraziare la mia amica Marilena, che settimane fa mi ha mandato un cartellone che era per strada. Il 6 e il 7 di aprile... Leggilo bene il cartellone, l'ultima volta hai detto che c'era una partita che non c'era. Esatto. C'è il Vaping Expo Milano. Ah. Sai che cos'è? Quello delle... Sigarette? No, sigarette elettroniche. Ah, ok. È la fiera dello svapo. Eh, va bene. Mamma ragazzi, sabato dalle 10 e le 19, domenica tra le 13 e le 19, perché la domenica mattina è aperta soltanto agli addetti ai lavori. Ah, pensavo sulle bambini, pensavo. Questa roba vi giuro, credo sia a pagamento, se no vorrei che la mia amica Marilena ci andasse per dirmi chissà che cosa c'è dentro. Vabbè, ma non c'è niente, cioè c'è solo le novità nel mondo dello svapo. Ne avevamo bisogno? Personalmente no, però tante cose che non ho bisogno. Tanto abbiamo scoperto che quella roba lì fa quasi peggio delle sigarette. No, non è vero, non è vero. Boh, le sigarette usegetta fanno male all'ambiente, ma hanno scoperto che fanno male anche la persona. Non diamo notizie, non sei un medico, non diamo notizie di cui... Ah, non sono un medico. No, mi spiace di essere un medico. Ah, io penso di essere un medico. No, non ancora. Comunque andate tutti numerosi e fatemi sapere com'è perché sono molto interessata di questo. L'ultimo invece devo ringraziare sempre la mia amica Adriana, che ieri si è salvata quasi in corner, nel senso che avevo già terminato i miei eventi, ma aprendo Facebook come una boomer qualsiasi, ho guardato che cosa erano gli eventi dei miei amici. E lei ha detto che sabato 6 aprile, tra le 16 e le 23 e 30, andrà all'ex area Pozzi a Corsico, che c'è il giardino dei visionari. Festa di primavera al parco. C'è un DJ set, c'è lo yoga, c'è la meditazione, c'è lo smudging, che se vuoi andare a vedere che cosa è. Cos'è lo smudging? Smudging ceremony, quindi la cerimonia di questo smudging. Ah, smudging, smud. Poi c'è il make-up, poi c'è tarot reading, che ho scoperto essere i tarocchi, poi ci sono live performance, ma questo smudging non mi ricordo. Cos'è? Allora, dai fuoco a delle erbe che fanno… Ah, tipo gli incensini? Sì, più o meno. Tipo il palo santo? No, allora tu prendi le erbe aromatiche, tipo quando fai l'arrosto, ci fai un bel trito di erbe insieme, le leghi insieme, poi gli dai fuoco e ti dovrebbero aiutare nel rilassarti oppure nella tenergia… Io vi ringrazio amici che mettete like e che parteciperete a questi eventi perché mi regalate delle perle pazzesche. A me non verrebbe neanche mai in mente di andarlo a cercare. Grazie. Volevo dirti che al 331783555, Marilena ci ha appena scritto e ci ha dato una foto di lei che sta svapando. Ecco, appunto. Appunto, per questo vorrei che lei andasse. Cioè, perché così almeno mi dici… Ambasciatrice di Cristian Radia. Cioè, io vorrei in realtà che qualcuno di voi ci scrivesse dicendo, oh, sono andata a quell'evento che hai detto di noi che non saresti andata. Uno, brava non c'eri. E questa cosa è fondamentale. È giusto. Due, guarda che era interessante. Guarda che ho fatto questo. Ma tu preferiresti che ti dicessero che è interessante oppure hai fatto bene a non venire? No, io preferirei che mi dicessero che è interessante perché così conferma il fatto che ho fatto bene a non andare. Vabbè, non l'ho capita ma fa niente. Ho avuto un attimo di blackout cerebrale. Perché mi piace che le persone siano diverse da me. Ah, ok, chiarissimo, chiarissimo. Ok. Non c'è dell'egocentrismo in tutto questo. No, no, assolutamente. Se vuoi fare lo smudging puoi andare fuori. Qua c'è il rosmarino, ad esempio. Gli metti un filo di rosmarino, poi un pezzo di glicina. Un pezzo di glicina, un pezzo di menta, una rosa, leghi tutto con una bella cordicina colorata, gli dai fuoco e poi, non ho capito, vai in giro cantando battiato. Comunque, di tutti questi, quanto ti piacerebbe fare? Lo smudging effettivamente è un cambiere. Non si finisce mai di conoscere le persone, è proprio vero. No, è simpatico, è una cosa che ti fette anche la cordina per legarli. Sto leggendo un bellissimo articolo su gardenbattistini.com dell'arte dello smudging. Si scrive smudging, con la U, eh? Sì, smudging. No, smudging stick, letteralmente bastoncini di fumo. Andate un'occhiata, va bene. Ok. Va bene, grazie a voi, come è sempre un piacere essere invitata in questo spazio, non nel mio, ma in questo tuo spazio che mi concedi. E niente, vi auguro un serenissimo weekend e ci risentiremo la prossima settimana. Va bene, in realtà hai fatto il compitino. Di che cosa? Di saluti. Sì, sì, certo. Va bene. Buona giornata. E andiamo avanti con la musica, allora. Ora è il 2024 e siamo in Italia, ce lo dicono anche Fabri Fibra insieme ad Emma e Baby Gang. In Italia Fabri, Fibra, Emma e Baby qualcuno o qualcos'altro. Ma perché devo fare queste canzoni con 18 persone? Io non ho mai capito, va bene. Comunque, versione 2024 di In Italia, bella, eh? Bella. La versione originale però, con la Gianna, devo dire che è tutta un'altra storia. Fabri, però, sei sempre il migliore. Questo c'è poco da dire. Noi adesso stiamo per fermarci per una piccola pausa, per anche ascoltare le notizie nazionali dal nostro giornale radio. E poi torniamo qui perché è venerdì e oggi c'è Good Morning con te. E chi è quel con te? Con chi arriva Good Morning? Con Silvia Gatti che è qui con noi e ci ha portato anche degli ospiti interessanti che sentiremo appunto fra pochi minuti dopo il giornale radio. E quindi rimanete, rimanete, rimanete qui con noi. Tanto ancora da raccontarvi questa mattina fino alle 9 in diretta qui su Crystal Radio. Vi ricordo, FM 96.2, Dub Plus. Ancora devo spiegare cosa del Dub Plus. Quella roba lì in macchina, quando salite, schiacciate mode che non cambiano i vostri vestiti ma cambiano le modalità della radio. Quindi schiacciate un po' e arrivate ad ascoltarci con il Dub, che significa ascoltarci in alta qualità, dovunque voi andiate. Pensate, col Dub arriviamo in tutta la Lombardia, quindi superate, cos'è, Carono Pertusella lì, andate oltre. Ecco, siamo anche oltre Carono Pertusella, pensate, potete arrivare fino ai confini del regno Lombardo, quindi ci mancherebbe. E poi, comunque, è sempre il nostro sito crystalradio.it dove potete ascoltarci e goodmorning.milano.it, il sito su cui invece potete riascoltare, rivedere soprattutto, tutto quello che succede qua ogni mattina dalle 7 alle 9, sempre in diretta, per raccontarvi tutta la grande città di Milano. Caccinga! Mica con Grace Kelly. E nel frattempo, anzi, ringrazio chi al 3317853555 ci sta scrivendo, come in questo caso, ad esempio, Fabrizio, che ci scrive Buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, finalmente è venerdì. Posso chiederti di salutare una mia cara amica e collega con cui sto condividendo un bel progetto? Ma certamente, allora, lei si chiama Gaia, così mi dice Fabrizio, ma soprannominata Yaia, la principessa di Baggio. Io come faccio a non salutare una che si chiama la principessa di Baggio? Ovvio che la saluto. Grazie mille, perché sappiamo che in questo momento ci stai ascoltando in coda sulla tangenziale Ovest, cosa che accomuna molti i nostri ascoltatori. Potremmo veramente sponsorizzare qualche chilometro di coda sulla tangenziale Ovest, grazie al Dub Plus. E oltretutto, prima dicevo che appunto con il Dub Plus ci portate ovunque in Lombardia, ieri vi ho ascoltato tranquillamente fino a Fidenza. Ecco, vedi, grazie Fabrizio d'Opera, che ci dice anche fin dove arriviamo col segnale. Benissimo, perfetto, grazie mille. È venerdì e ogni tanto al venerdì viene a trovarci la nostra grandissima ospite che è Silvia Gatti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. State sedute, state seduti tranquilli e tranquille. C'era già la standing novation. Certo. Standing novation. Senti gli applausi. Saluto la principessa di Baggio, in quanto io sono principessa di Lambrate. La principessa, sai che c'è il puma di Lambrate? Sì. Fabio Treves. Fabio Treves è il puma di Lambrate, viene chiamato, allora da oggi Silvia Gatti, la principessa di Lambrate. E che princess. Perfetto, perfetto. Oggi quindi si parla di principesse, va bene? Le principi. Facciamo le principesse Disney oggi. No, non proprio. Silvia, come sempre, ha questo bellissimo vizio di portarci degli ospiti molto, molto interessanti. Quest'oggi parliamo di qualcosa di particolare, ma non perché sia particolare in sé, ma perché è stata proprio una bella idea e uno sviluppo di un'azienda, fondamentalmente, che ha trovato una cosa interessante da fare. Certo. Abbiamo al telefono Valentina di Noibuer. Buongiorno, Valentina. Ciao, buongiorno Silvia. Grazie di avermi invitato. Figurati, è un piacere. Grazie a te di avermi spiegato cose che assolutamente non sapevo o che sapevo ma spiegavo male io. E grazie perché adesso, fra poco, le spiegherai ai nostri ascoltatori e anche a Fabio. Valentina, che cos'è Noibuer? Allora, Noibuer è un brand che è stato creato, diciamo, quest'anno e noi siamo, cioè abbiamo fondato il brand l'anno scorso, ma siamo online effettivamente sul mercato da tre mesi. Quindi siamo proprio nuovi di zecca. E noi facciamo biancheria intima funzionale. Nella fattispecie noi ci rivolgiamo a persone trans, queer, gender non conforming e non binarie. La biancheria funzionale è una roba che sembra una cosa strana. Sì, ci avevi mai pensato Fabio. Ieri Valentina mi diceva, c'è anche su un video su Instagram, ricordiamo l'account di Noibuer su Instagram, poi diremo anche altri social, che è facile per noi mettere la mano in un cassetto e tirare fuori un reggiseno comodo, degli slip comodi, dei boxer che abbiamo scelto con facilità. E invece, Valentina, non è così per tutti o per tutte. Cioè per le persone transgender non è così semplice. No. Esatto, esatto. In realtà, guarda, la biancheria funzionale significa soltanto biancheria che svolge una funzione, no? Però per le persone cisgender questa è una cosa facile. Cioè un reggiseno a balconcino svolge la funzione di far sembrare il seno più in alto rispetto a dove è naturalmente. E quella è una roba che tu trovi in qualsiasi negozio. Ripetiamo, Vale, cisgender. Che cosa si intende per persona cisgender? Allora, diciamo dal latino. Adoro. Dal latino cisgender, cis e trans sono due particelle latine. Per cui cis significa al di qua, cioè dalla parte di chi parla, e trans significa dall'altra parte rispetto a chi parla. Quindi come le alpi cisalpine, il versante di qua, e le transalpine si la farla. È vero, transalpine. In geografia sono bravo, in latino no. E quindi fondamentalmente l'idea è la stessa. Una persona cisgender sta al di qua, diciamo, dello spettro del binario. Quindi si identifica con lo stesso sesso che gli è stato assegnato alla nascita. Quindi, che ne so, il dottore a me mi ha guardato da piccolo e ha detto, si chiamerà, è una bambina. E io effettivamente concordo, e quindi sono una persona cisgender. Se io invece avessi detto, no, io non mi riconosco in questo genere, questa non sono io, voglio fare dei cambiamenti, a quel punto sarei una persona transgender. Quindi dall'altro lato rispetto. Al tuo genere, diciamo. Al mio, esatto. Come nasce Noibwer? Ci hai pensato? Perché? E infatti, è questo che mi chiedo. Perché per noi è complicato capire, per noi, adesso lo dico brutale, vado in un qualsiasi grande magazzino, tiro sul primo pacco di mutande che trovo e sicuramente va bene. Sì, non hai difficoltà. Al massimo sbaglio la taglia, ma chi se ne frega c'è quello. E invece non è così. È proprio questo il punto. Io in realtà sono una che non penso neanche alle mie di mutande. Io penso alle mutande degli altri a volte, ma questo non è vero. A volte sono quelle degli altri. Il punto è che mia moglie è una donna trans. Ok. E quindi io l'ho vista in casa. Certo, vivere questa cosa. E non si trovava, era scomoda, non le piaceva particolarmente quello che trovava nei negozi. Allora sì, quello che trovava nei negozi ovviamente non andava bene. Perché se tu vai in un negozio qualsiasi, in marche, grandi, piccoli, quello che è, compri una biancheria da donna, però la tua biologia ha pene, testicoli, eccetera, anche se tu la taglia, la indovini, quando poi le mutande te le tiri su, ti scappa tutto da tutte le parti, non va bene? Sì, diciamo proprio come... è così, è così. Pensateci, cioè, come deve essere. E la nostra Valentina ha detto, mo' ce penso io, aspetta. Esatto, basta, mo' le mutande te le faccio io. E quindi hai deciso appunto di creare questa linea, ma non sei da sola, perché hai trovato... No, non sono da sola. ...delle risposte molto positive intorno a te, quindi tu hai altri quattro soci. Esatto, siamo in cinque, sì. Siete in cinque, è una start-up giovanissima, ma già mi dicevi, con delle risposte entusiaste quasi. Molto, sì, molto positive, sì, 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 molto positive, stiamo avendo un grande seguito per essere così nuovi, devo dire, io sono molto felice. Fra l'altro siete in tre in Italia, ma le altre non sono delle start-up, giusto? Sono delle società gestite da singole persone, mi dicevi. Esatto, sì, 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 sono delle società singole, sì, immagino di sì, nel senso che essendo strutturate come il tipo di età individuale, chiaramente immagino abbiano altre difficoltà rispetto a quelle che possiamo avere noi, no? Essendo in cinque. Chiarissimo, chiarissimo. Valentina, allora io ti chiedo di rimanere ancora un attimino qui con noi, adesso ci ascoltiamo un brano e poi torniamo, perché io voglio capire bene appunto anche come ha reagito il mercato da una parte, ma anche, mi immagino, la prima volta che si è dati magari, non so, una start-up, andrei in una banca a dire, scusate, avrei bisogno di un presto. No, non l'hanno fatto. Vorrei capire come hanno risposto, le start-up fanno i pitch, fanno i speed pitch, vorrei capire come ha reagito la gente quando gli hai parlato, allora, salve, questa è una mutanda, e da lì saperti un mondo. Valentina ha messo tutti i suoi risparmi, in realtà il problema c'è stato con le società che dovevano produrre. Allora me lo racconti adesso, Vale, eh? Andiamo con Angelina Mango e poi voglio appunto capire come è risposto il mondo a questo punto, a questa vostra geniale idea. Angelina Mango con La Noia. Total, Angelina Mango, La Noia, alle 8.22 qui su Crystal Radio, con Silvia Gatti. Silvia è arrivato anche un bello whatsappino per te, da Alberto, che dice un saluto particolare a Silvia, buon weekend anche a te. Ciao Alberto, conosciamoci. Ormai sì. No, non lo so, credo si sia sposato. Ok, scherzo. Stai buona, Silvia. Silvia Gatti qui con me, parliamo sempre di gatti, anche con il nostro collegamento, perché abbiamo Valentina della Gatta. Tra parentesi abbiamo scoperto di essere tutti e tre allergici ai gatti. Tutti e tre allergici. Infatti, infatti. Va bene. Valentina ancora qui con noi, ci sta parlando di Noibware. Grazie a te, Silvia, che ci hai portato questa ospite. Sicura, è un piacere. Parlarò appunto di questa... Startup. Io voglio sapere un po' la risposta poi del pubblico da una parte, ma del mondo dall'altra parte. Appunto, le start-up so che girano tanto, vanno a fare gli speech e tutto. Quando tu incominci a raccontargli la vostra storia, vorrei vedere gli occhi di chi vi ascolta. Sì, è abbastanza... è un po' complesso, diciamo. Noi, per fortuna, abbiamo avuto il privilegio per ora di non dover andare in banca a farci aiutare, insomma, quindi fare un pitch in banca e spiegargli. Però la difficoltà in realtà che abbiamo avuto è stata a monte, nel senso che quando abbiamo dovuto trovare l'azienda che ci producesse effettivamente la biancheria, noi andavamo, salve, buongiorno, vorremmo fare questo, questo, quest'altro, per trasparenza vi diciamo che la nostra utenza, quindi il pubblico di riferimento, sono queste persone. E le aziende spesso si tiravano indietro, diciamo, no, no, noi non vogliamo avere niente a che fare, non vogliamo associarci, non vogliamo... Beh, insomma, non male. Io credo che se vado a chiedere invece il finanziamento e cose per fare merendine, per far diventare grassi i bambini, me li danno subito. Sì, subito. Quindi quello non è un problema. Assolutamente. Invece fare delle mutande per tutti invece è un problema. Ma ci rendiamo conto. Non male. Vale, non è solo questo, cioè questo succede magari in Italia, perché abbiamo anche... Io mi auguro che succeda, sì, nei meno posti possibile, però... Però mi dicevi che ci sono dei mercati che invece guardano proprio il soldo e non sono interessati al tuo, al pubblico al quale puoi riferirti. Quindi si dicono, sì, ok, bella lì, facciamo questa cosa, anziché magari è innovativa o ancora poco diffusa. Anche perché, insomma, immagino che il pubblico esista, cioè stiamo parlando di numeri importanti. Guarda, esistono in realtà delle ricerche demografiche che sono state pubblicate nel 2023 e anche nel 2021 su scala mondiale. Quindi la popolazione di persone trans, queer, non binarie, gender non conforming, in una popolazione data, di solito è circa il 2-3%, che è più o meno come le persone con gli occhi verdi. Ok, stavo dicendo, mi hai anticipato, stavo dicendo, è come prima o meno le persone con i capelli rossi, che so che ha quel tipo di percentuale. E quelli però sono lo 0,6%, ovviamente. Ecco, vedi te, vedi te, vedi te. Purtroppo ci sono dei pregiudizi, Valentina, e ancora oggi la persona transessuale, non si dice transessuale, si dice transgender, perché transessuale è dispregiativo oltre che desueto, quasi dispregiativo, quasi. Le persone transgender vengono associate spesso alla prostituzione, che è una cosa assolutamente da cancellare. C'è uno stigma, bravo Fabio, è vero Valentina? E non ci nascondiamo dietro a un dito, se si usa la parola keyword, esatto, trans, è una delle... Sì, se tu cerchi, banalmente, se vai sui siti pornografi, cioè YouTube, porn, porn hub, eccetera, e cerchi, sai, se esistono le categorie, cerchi la parola trans, cioè, in Italia è la parola in assoluto più cercata. Allo stesso, quindi questo nel mondo, diciamo, di quello che le persone vogliono guardare, con un po' con l'aspetto morboso, come oggetto sessuale, però allo stesso tempo, come soggetto attivo parte della società, invece vieni discriminato. È uscita una notizia di ieri, forse l'avete vista, di una persona transgender a Pisa, che è andata dal datore di lavoro dicendo che voleva fare un percorso di affermazione di genere, è stata licenziata in tronco. Sì, non è la prima, purtroppo... Non è la prima, c'è stata Chloe Bianco l'anno scorso, cioè, esatto. Sì, sì, sì. E quindi, sì, dal punto di vista di oggettificazione, queste sono persone che vengono molto oggettificate, iper sessualizzate, e però poi dal punto di vista umano... Sì. Ci sono stati dei suicidi, eh? Sì, 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 sì. Vabbè, credo che sia interessante l'operazione che fate, non solo appunto per dare una comodità a queste persone, ma benissimo, ma anche per comunque farne parlare sempre di più, anche in altre circostanze, quindi non solo nella circostanza drammatica, invece che può esserci, o la notizia drammatica del suicidio, della persona che non viene accettata, della discriminazione sul posto di lavoro, che sappiamo essere all'ordine del giorno per persone transgender, per donne che rimangono incinte, cioè sappiamo che lì anzi è un mondo molto ampio, ma invece parlarne semplicemente per la comodità di vivere una vita comoda, scusate, tutti i giorni, è interessante perché davvero ricominciamo a parlarne e farlo entrare nel nostro quotidiano anche il tema, e quindi l'importante è quello. Esatto. Fra l'altro Valentina... La vera domanda è tu sei mai uscito di casa senza mutande? Io no. Ecco, allora... E qui ce ne abbiamo tutti i bisogni. Qui si apre un discorso. Attenzione Valentina. In questo momento so che c'è gente che sta ridendo, so che in questo momento c'è gente che sta ridendo come la matta perché sanno le mie abitudini estive. È andata così Valentina. E non dico nient'altro. Adesso riciradrizziamo un secondo. E dalle mutande del direttore Fabio un po' di chiarezza. Attenzione, in studio le metto sempre. Grazie. Quando sono qui in studio le metto sempre. È bello sapere. È bello sapere. Si parla tanto di parole, dell'importanza delle parole, di usarle correttamente. Abbiamo detto che la parola transessuale non si deve usare. Il termine giusto è transgender. E poi si dice tanto M to F, F to M. Cioè da maschio a femmina, da femmina a maschio. Però questo presuppone che ci sia un punto A e si vada dritti a un punto B. O bianco o nero. E invece no, ci sono un sacco di sfumature. È vero Valentina? Sì, esatto. Tra l'altro, come dire, è un'espressione che implica come se ci fosse il percorso, proprio come hai detto tu. Come con il cursore di Google che guidi dal punto A arrivi al punto B. In realtà la questione non è del fatto che la persona è sbagliata. La questione è che il documento è sbagliato. Cioè ti hanno assegnato maschio alla nascita o femmina alla nascita. E questo è il motivo per cui ora si usano le espressioni AMAB e AFAB. Quindi assign similar birth, assign male birth. E quindi il punto è il problema è burocratico. Il mio documento è sbagliato. Non sono io che sono sbagliata. Eh, ma se vede si rivalta il paradigma, giusto? Allora Valentina, rimani ancora con noi perché al punto di vista andiamo con un po' di musica. Tra parentesi, Silvia, è arrivato un Whatsapp ancora per te, nel senso che appunto Alberto dicevamo è sposato, quindi non può. Nello scrive, io sono single. Nello, ne riparliamo. Ok, non so per onello i gusti di Silvia. Speriamo porti le mutande, almeno lui però. Ecco, il Whatsapp dopo vuol che te lo leggo? Sì. E dice... Ah, Valentina ora ci mette giù. È una bella sensazione. Effetto elicottero garantito. Va bene. Ok, passiamo alla musica perché sento già elicotteri arrivare. Questi sono i tuoi spasimanti, Silvia. Mi spiace. Valentina, lo sapevo. Non c'è problema. Non c'è problema. Andiamo avanti con la musica. Valentina, rimani con noi perché poi torniamo ancora qui a parlare di NoiBeware. Adesso è Gali con Casa Mia. E questa era Emma con Pezzo di Cuore insieme ad Alessandro Amoroso. Il grande duet di Emma insieme ad Alessandro Amoroso. Che featuring. Che featuring. Quel featuring di cui non sapevamo di aver bisogno. Comunque, andiamo avanti con i nostri ospiti. Qui con me in studio Silvia Gatti. Collegata. e invece al telefono con noi Valentina della Gatta di NoiBeware. Yes. Biancheria intima, comoda, bella per tutte e per tutti. Ci sta Vale? Sì. Sì? Sì, direi di sì. Abbiamo parlato delle difficoltà che avete avuto come start-up a trovare qualcuno che producesse questa biancheria intima. Abbiamo però detto anche che avete avuto in soli tre mesi una risposta molto positiva. Infatti avete chiesto aiuto a influencers e content creators. Voi avete, ricordiamolo, un account, una pagina Instagram e una su TikTok. e ho visto i video appunto di persone che utilizzano appunto la vostra biancheria e sono veramente contenti. Vero Vale? Sì, noi abbiamo, allora guarda, noi abbiamo veramente fatto del nostro meglio per fare questi prodotti che dovranno essere proprio i prodotti dei nostri sogni. il binder è stato creato in collaborazione con la salvavoce che per quello che ne so io in Italia è l'unica vocal coach che si rivolge alla vocalità transgender ed è una cantante anche quindi fondamentalmente questo binder è stato disegnato, prototipato e modificato cento volte perché lasciasse le costole libere per la respirazione corretta, lasciasse libero il diaframma. Valentina, ricordaci bene cos'è il binder? Il binder è un, immagina come un top sportivo, ok? Quindi è un pezzo di sopra che serve per l'appiattimento del tessuto mammario. Ok. Però solo il tessuto mammario cioè la parte molle perché non deve schiacciare le costole, deve fare in modo che tu possa comunque respirare liberamente. Non è una fasciatura appunto, è proprio... No, non è una fasciatura. Quindi fondamentalmente come fai a metterti addosso una roba che schiaccia soltanto il tessuto molle ma non insiste sulla gabbia toracica? Ho la risposta. C'è da fare un sacco di lavoro. Si vada noi buer. Si vada noi buer. Esatto. Giusto. Beh, ma c'è una ricerca pazzesca dietro anche a questi capi. Sì, ogni capo sai viene creato, poi viene... il prototipo viene testato, a quel punto si fa... Dice ok, mi tira qui, qui non va bene, qua fa la piega, ok, ne rifai un altro e di nuovo cioè la prototipazione è un processo molto lungo. Dopodiché quando trovi il prototipo finale che dici ok, lo voglio così, il processo prevede un focus group. Quindi noi abbiamo trovato degli utenti reali che per un mese, alcuni anche due mesi, hanno indossato i nostri capi, ovviamente a titolo gratuito, quando ce li hanno ridati ci hanno dato anche un feedback estensivo dove ci dicevano ok, mi sta bene, mi sta male, mi sta comodo, l'ho lavato e continuava a performare correttamente, eccetera, eccetera. E quindi noi a posteriori di tutto questo abbiamo mandato i capi in produzione. Chiaro. Produzione che è semplicissima immagino, vero? Come no? È stato difficile trovare chi produca, chi può produrre i capi di produzione. Sì, abbiamo mandato senza esagerare almeno avremmo chiamato 30 aziende in Italia. Ah però. Tra email, telefonate, ogni volta che dicevamo che la nostra utenza era parte della comunità LGBT, in particolare persone diciamo trans in senso ampio, si tiravano indietro e dicevano no guardate, noi no. Ma che gli frega loro? Cioè quello che non capisco. È un'ottima domanda. Gli frega quando digitano su Google, gli frega molto lì. Cioè anzi, su soldi. Io onestamente pensavo che all'interno di una società capitalista sai io ti pago e tu mi dai quello che voglio. Posso dirlo Valentina, cioè il capitalismo ci delude anche su questo. Cioè per una volta che speravamo nel capitalismo invece neanche qui questa volta. In realtà il punto è che le persone sono molto legate ai propri valori. Ok, grazie, ottima cosa. Però potete essere legati a dei valori migliori magari. Però li avete trovati alla fine, giusto? Sì, sì, esatto. Allora facciamo i complimenti. Ce ne è voluta ma siamo molto felici. Facciamo i complimenti. Sì, sì, assolutamente. che ha avuto non il coraggio, che ha avuto l'idea di dire ma produciamo, cioè produciamo. Sì, esatto. Le cose le facciamo per tutti. Gli esseri umani sono esseri umani anche loro. Capito? Ma cosa dobbiamo arrivare a dire? Ma vi rendete... Comunque, vale, ordino su Neubware. Mi arrivo a casa, però vivo con i miei. Vivo con qualcuno che non sa, che comunque io utilizzo questo tipo di biancheria e non sai perché. Anche qui c'è privacy e discrezione. Spiegaci. Assolutamente sì. Il pacco non è brandizzato, quindi il pacco è anonimo. C'è il mittente, il destinatario, ma è tutto lì. Quindi il pacco non è brandizzato né fuori e neanche dentro. Ah, quindi controlli leggi del marketing. Sì, perché spesso si curiosa, arriva un pacco a casa e qualcuno lo apre anche se è per te. Qualcuno lo apre, lo apre tua mamma, lo apre tua nonna, lo apre. La nonna potrebbe scoprire un mondo nuovo, effettivamente. Dove essere di lungazione. ci sono molte famiglie che non sono, diciamo, amichevoli. Assolutamente. In queste situazioni. È pericoloso anche, addirittura, può diventarlo. Non solo per le persone maggiorenni che magari vivono ancora a casa, che magari frequentano l'università o i primi anni sul lavoro. Però soprattutto le persone più piccoline che sono magari ancora minorenni ma c'hai già 17, capito, 16, 17 anni. È stato appena sbattito fuori. Guai al mondo che i suoi disegnitori ti buttano fuori di casa. È successo a un ragazzo che sta per fare la maturità ed è stato accolto dal professore. È fuori di casa. Siamo che a Milano esiste una casa che accoglie. Sì, sì, sì. Le cose di fudio. Anche a Roma. al punto che questa cosa esista. Allora, è fantastico, è bellissimo, meno male che ci sono ma allo stesso tempo è una disgrazia. Drammatico. Mai bisognerebbe buttare fuori di casa nessuno. Nessuno, a prescindere da qualsiasi cosa. Valentina, si pensa, ok, vuoi diventare una donna, vuoi diventare un uomo, scusami la schiettezza. e si pensa che quindi bisogna subire le operazioni quelle adatte per rimuovere il seno, una, come si chiama, vaginoplastica, ho detto correttamente. Non è così. Perché, Valentina, mi dicevi, non tutte le persone hanno voglia o l'esigenza e desiderio di sottoporsi a delle operazioni che durano anche ore e ore. Quindi, spiegaci meglio. Allora, dunque, il motivo per cui le persone possono decidere di fare un percorso medicalizzato, diciamo, dal punto di vista chirurgico, è per una questione legata a, si chiama, disforia. Quindi, è un malessere del fatto di vedersi con delle parti del corpo che le fanno stare male. Sì. Quindi, immaginiamo che io dico, no, io ho il petto così, non ce la faccio a vedermelo, ho il seno, non ce la faccio, ma voglio toglierlo e decido di fare, ok, magari quella che si chiama top surgery. Sì. È una chirurgia estensiva, però metti caso che io magari, che ne so, sono allergica all'anestesia o c'ho paura di andare sotto i ferri, non lo faccio. Certo. Ma non vi a fare anche un punto Sono meno uomo o meno donna. Esatto, non sono, cioè, la mia identità è valida indipendentemente da quelli che sono i miei genitali, indipendentemente dai vestiti che mi metto, indipendentemente dal fatto come porto i capelli, se mi trunco, se non mi trunco, se mi metto lo smalto, se mi, non lo so. Perché si pensa la persona prescinde da tutto quello che è intorno. E non bisogna pensare a, ok, sei femmina, allora devi essere iper femminile, vuoi essere un maschio, allora devi essere iper maschile. e invece non è così. Ma non è così neanche per le persone cisgenze. Assolutamente, esatto. Stiamo pensando a questo, basta guardare a me. Va bene. Non è che sono iper maschile, come dire, non è che sto stommaggio dei maschi, chiunque di noi ha le sue sfumature. Bravo, hai detto bene, le sfumature. Molte volte si pensa invece che non esistano e bisogna andare da A a B. Ma noi abbiamo quella di dire del maschio, che si è maschio alfa. La società è molto binaria. pure non fare la femminuccia, non piangere come le femminucce. Corri come una femminuccia. Tu provo a pensare alle persone che hanno le fobie sui tessuti. Se sei un maschio è rosa no, è rosso no, è quello no, è tessuti colorati no. Io sto benissimo con la camicia rosa ad esempio, ho scoperto negli anni, ma ci ho messo anni ad accettarlo. Perché era rosa? Perché era rosa, sì. All'inizio facevo fatica, ma io me la metto. Per fortuna stiamo veramente cambiando. Poi invece, per fortuna, insomma, si cresce, e si capisce che stavo anche bene, quindi perché non metterla. Sì, esatto, ma tu non è la camicia rosa che ti rende meno o più di quello che sei. Cioè, è un tessuto, non morde, capito? Cioè, è un pezzo di stoffa. Il tessuto non morde, mi sembra, usatelo come slogan che potrebbe essere interessante. Ma a volte puoi mordere il tessuto. Bella. E Neubauer resiste. Infatti, infatti, infatti. Diamo tutte le coordinate, allora Silvia, perché siamo quasi in conclusione. Sì, Allora, trovate Neubauer scritto n-o-i-b-we-r Noi, 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 n, o, y, b, where, w, e, a, r, sia su Instagram che su TikTok. Signori, benvenendo Silvia Gatti, C1 in inglese, eccola qua. Mamma mia. E fra poco sulla pagina Instagram di Neubauer verrà annunciata una sorpresa. Annunciazione, annunciazione, vero? Vale, hai parlato anche alla Sapienza, c'è stata Giulia Delellis, perché non Valentina della Gatti di Neubauer. Io spero di fare meglio. Ma sei già stata, giusto? No, c'è settimana prossima. Settimana prossima, sei contenta? Cosa devi raccontare? Allora, ci hanno invitato alla Sapienza, a un Master di secondo livello, a parlare proprio di Neub, quindi della nostra esperienza, diciamo, di startup, di quella che è la prototipazione, sono i passaggi che richiedono creare un capo di questo genere da zero, quindi ex novo, e fondamentalmente di tutto quello che è il contesto legato all'abbigliamento e alla genderizzazione dell'abbigliamento, quindi i pantaloni da uomo, i pantaloni da donna, le camicie da uomo, le camicie da donna, cioè il fatto che dei vestiti, che è soltanto una roba di stoffa, abbia tutte queste implicazioni. Cosa ti aspetti da questo pubblico in chiusura? In realtà, visto che è un pubblico giovane, perché le persone che frequentano il Master avranno 25-30 anni, cioè saranno giovani, in realtà mi aspetto molta accoglienza, devo dire, ho delle buone vibes. Mi piace anche la speranza nell'uomo, nel genere umano, nell'umanità che ha comunque Valentina, nonostante tutto ha questa speranza, quindi grazie anche di questo messaggio di speranza, Valentina, va bene? Grazie a voi. Senti Silvia, io ti ringrazio tanto per questo ospite, è stato molto interessante, Valentina, seguita appunto Noibware sui social, N-O-Y-B, grazie mille Valentina e allora anche in bocca al lupo per la sapienza e anche per questo annunciazio, annunciazio che arriverà a breve, giusto? Tra poche ore, grazie infinite a voi, ciao, buona giornata. Grazie mille Valentina, grazie mille, allora Silvia, noi siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato punto di intimo, andiamo con un po' di musica, abbiamo parlato di gente che si mette e non si mette le mutande, per chiuderla proprio bene, mi raccomando, se mettete una tuta sotto mettetevi le mutande, Fabio, no perché va Mammut con tuta gold, per quello, già avete il coraggio di mettervi una tuta gold, che insomma ci vuole coraggio, però ci vuole coraggio, io non mi ci vedrei, mi metto la camicia rosa, ma tuta gold io non ce la faccio, tuta gold tu, perfetto, l'importante comunque sotto la tuta vi mettiate le mutande, mi raccomando, per favore, andiamo avanti, Mammut con tuta gold. 8 e 54 minuti di oggi venerdì 5 aprile, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Money Milano, anche insieme a Silvia Gatti, e allora Silvia quali progetti hai per la giornata? Allora, in questa giornata mediterò, berrò molta acqua, anche prosecco questa sera perché è una preparazione al prosecco della sera, ah ecco, rimanete idratati, dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa e possiamo già dirlo, invece venerdì prossimo torni Silvia Sì, sono di nuovo qui, mi ripropongo come la peperonata, eh già, sono ancora qua, c'è l'ospite. Ah, no, non dici niente, non dici niente, poi ce lo racconti, poi ce lo racconti. No, 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 no. Vabbè, facciamo un po' di pubblicità a Silvia Gatti, Silvia Gatti che troviamo sui social con? Silvia Gatti on air, con vari underscore. Sì, un po' sparsi qua e là. Sparsi qua e là, non vi aspettate granché, non sono un influencer, non sono, per fortuna, una content creator, però so simpatica, dai. No, neanche. Almeno 400 storie al giorno, io ve lo dico. Le voci che avete sentito questa mattina sono la mia, Fabio Ranfi e qua di Silvia Gatti qui con me, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo perché adesso è weekend, quindi grazie Silvia ancora. Grazie Fabio. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e fatto compagnia questa mattina. Ciao Milano!